qui in macchina si parla di si parla del valore dato a instagram dalle nostre facce di cazzo ma che cazzo di cazzo che sei super quark cosa? super quark è una cosa molto scientifica questa storia di instagram abbiamo danny danny guarda che c'è qua anche danny al momento ha più successo dei tesi beh sicuramente quindi vuoi farti consigliare non è che faccia proprio una vita migliore di quella dei cani vabbè come accello che mangio il panino? il panino willy è una sala d'alimentazione impennate mentre mangiate so i i i will be the one be the one to leave this in pieces and you you will be alone 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 with all your secrets and regrets don't lie i 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 oh i 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